Patron Alessandro Santoro, alla vigilia forse il risultato che tutti si aspettavano era il pareggio. Pareggio è stato, ma in campo è stato divertimento assoluto sia per i protagonisti che per gli spettatori uno a uno giusto al triplice fischio. Sì, sì, assolutamente sì, le squadre si sono equivalse, ma anche l'andata era stata un po' così. Poi il guizzo del Cupello gli ha portato i tre punti lì. Due buone squadre, il Cupello ha molta fisicità, mi ha impressionato per la fisicità, guarda caso il loro gol è venuto fuori da un calcio da fermo. Siamo stati bravi a sbloccarla, entrambe le squadre si sono divorate parecchie occasioni, le nostre bocche da fuoco ne hanno avute diverse, anche se non limpidissime alcune quasi a tu per tu col portiere. Pareggio è stato un grande protagonista con almeno due interventi straordinari, alla fine è risultato giusto. È un punto a testa che non scontenta nessuno e anzi ci fa fare un grosso passo in avanti verso quella che deve essere la cognata salvezza. Mister Zetulaev, uno a uno giusto, punto importante per la Virtus Cupello. Abbiamo fatto una partita fatta bene, giusta, concentrata e potevamo vincere noi, potevamo anche perdere, c'è da dire anche questo. Quindi di fronte avevamo comunque una squadra giovane, in salute, ma i nostri uomini sono stati bravi perché non è facile. Noi cerchiamo di giocare sempre per vincere, però quando non riesce a vincere una gara è importante non perderla. Quindi abbiamo goduto questo spettacolo, ma penso anche ai tifosi, ai spettatori, perché è stata una bella partita intensa con tante occasioni da gol. Io sono contento per il punto che abbiamo guadagnato e quindi adesso andiamo avanti. Complimenti anche ai arbitri che hanno gestito una partita importante, erano un po' in difficoltà ma sono stati bravissimi.